Il pensiero di 35 studiosi, economisti, sociologi e politici riunito a 70 anni dal Codice di Camaldoli per riflettere sul ruolo dei cattolici nell'attuale scenario italiano. Un intenso lavoro racchiuso nel libro Una buona stagione per l'Italia a cura di Francesco Gagliardi e Nicola Graziani e che sarà presentato per la prima volta ad Arezzo venerdì 20 maggio alle 18 presso la Sala Grande di Giustizia del Vescovado. È un contributo importante sia di carattere formativo che anche di spunto e di riflessione per chi intende impegnarsi in politica e nel sociale e cercando di dare risposte ai problemi del nostro tempo con una visione dei valori cattolici e della dottrina sociale della Chiesa. Parteciperanno i due coordinatori del volume che sono Nicola Graziani e Francesco Gagliardi i docenti alla Pontificia Università del Sacro Cuore di Roma e poi gli interventi saranno, ovviamente ci sarà il saluto di Sua Eccellenza il Vescovo e Andrea Gallorini che farà l'introduzione a questo volume, a questo lavoro. La presentazione ovviamente è una collaborazione fra tutto quello che è il mondo laicale legato alla Chiesa e quindi dal sindacato alle associazioni e ad altre associazioni appunto che hanno ritenuto di dare un proprio contributo. Ma c'è ancora un posto nella politica per i valori cattolici cristiani ad oggi? Ma secondo me ci sarebbe un grandissimo spazio. L'importante è che coloro che si trovano ad operare nell'ambito politico diano anche uno sguardo alla loro storia, ai loro valori, li riscoprano e li applichino. Questo ci insegna un po' anche la dottrina sociale che anche la testimonianza di quelli che sono i nostri valori è importante per la soluzione che diamo ai problemi. Grazie a tutti.